Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia che notizie che ci sono nel video di oggi. Parleremo ragazzi, ovviamente, delle news riguardanti al terremoto. Lo sapete, vi tengo aggiornati ora per ora, giorno per giorno, in realtà, su tutto quello che accade nella mappa in questi ultimi nove giorni della stagione numero 7. Parleremo anche di alcune nuove skin che forse avete già visto ma che nascondono dei segreti molto interessanti. E ragazzi, un altro argomento super serio, il nuovo record mondiale in duo, stabilito pochissime ore fa. Ma ci saranno altri argomenti super interessanti. Argomento bonus. Una cosa che succede nel backpack della skin Cornetto che forse non sapete. Intanto vi ringrazio tantissimo per utilizzare il mio codice XIUDERONE quando scioppazzate di prepotenza. Grazie davvero a tutti per il grande supporto che date. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere niente. Ma prima ragazzi, la domanda. La domanda, ve la devo fare, è una domanda veramente super interessante. I vostri commenti sotto qui, raga, rispondete. Mi raccomando, ma vorresti gli aerei nella stagione 8? Ditemi un po', ragazzi, questi aeroplani che sono sempre stati un po' al centro dell'attenzione da parte di tutta la community di Fortnite, li hanno inseriti, grande figata, dopo tre giorni una merda esagerata, li hanno nerfati, li continuano a toccacciare. Cosa pensate per la season numero 8? Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare ragazzi di un argomento che sapete, quindi molto velocemente vi ricordo ragazzi che completando tutte e 13 le sfide di San Valentino, quelle overtime, quelle che sono state regalate, otterrete il pass battaglia della stagione numero 8. Mi raccomando, non dimenticate di fare le sfide, otterrete anche alcuni oggetti, alcuni li abbiamo già ottenuti, schermata di caricamento, la copertura di San Valentino e abbiamo anche la nuova scia con le liane. Ve la faccio vedere ragazzi, che è molto molto carina, non so bene che cavolo centri con San Valentino, probabilmente perché sei legato così, però va bene ragazzi. Questa è anche la copertura che ci verrà regalata fra pochi giorni, quando appunto usciranno le sfide mancanti. Ma andiamo avanti e parliamo dell'argomento di cui vi ho anticipato all'inizio del video, siamo nella gelateria, con la nuova skin Cornetto, a me è stata regalata, voglio ringraziare Brian per avermela regalata, tutto il set mi ha regalato, porca miseria, ho fatto il pazzo criminale. Ma ragazzi, c'è una cosa molto interessante di questa skin, il backpack, insomma questo orsacchiotto che distribuisce a profusione il gelato. Però forse avrete notato ragazzi, che durante le vostre partite, il gelato a volte è pieno, ma a volte invece è vuoto. Sapete che cosa vuol dire? Praticamente il gelato, quindi il cono gelato, non è altro che un indicatore della salute del vostro personaggio. Quindi se avete poca salute, non c'è gelato, se avete tanta salute, c'è tanto gelato, e se vi state curando, prot, il nostro orsacchiotto distribuisce a profusione il gelato che va a riempire appunto il cornetto. Dai non ditemi che lo sapevate perché porco Giuda non ci credo. Quindi una specie di backpack reattivo, anche se in realtà non è segnato che è reattivo. Molto molto interessante, a me è piaciuto tantissimo scoprire questa curiosità sul backpack. Ma andiamo avanti e... Terremoto news raga, le terremoto news, le terremoto, le terremoto, il terremoto news. Siamo arrivati alla settima crepa del terremoto ragazzi. La settima crepa è stata formata da poche ore, terremoto news. E siamo vicino praticamente, vediamo se l'ho messa, eccola lì, vicino al magazzino. Come vedete ragazzi, comincia sempre di più a delinearsi la porzione di mappa che è accerchiata dalle crepe. Secondo me ragazzi, non si staccherà completamente una porzione. Nel senso potrebbe anche rimanere a ferro di cavallo. Non so se mi spiego. Cioè tipo il quartiere, Bosco Blatterante e il cantiere vengono distaccati. Ma tipo Corso Commercio e la parte sopra del quartiere rimangono invece collegati alla mappa. Staremo a vedere ragazzi, come sempre questa è la tabella di tutte le prossime crepe. E vi ricordo di addizionare sempre 6 ore all'orario che state vedendo qua. In modo da sapere con precisione quando arriverà la prossima crepa. Ma andiamo avanti ed eccola ragazzi. Eccola qua. Una delle immagini più interessanti dell'ultimo anno direi di Fortnite. Il nuovo record mondiale di 42 kill in duo. È stato fatto il 16 febbraio su Twitch in streaming. Da Gator e Chris was taken. Ovviamente non si aspettavano di rompere questo record che è rimasto imbattuto, se non ricordo male, per 11 mesi. E che era stato fatto, ce l'ho scritto da qualche parte. Era stato fatto questo record da FaZe Funk Bomb e Nuggets. 41 kill in due. È rimasto 11 mesi imbattuto e appunto, se andate magari a cercare ragazzi in giro su YouTube, troverete sicuramente tutta la partita con le incredibili 42 kill di questo duo che è stato davvero devastante. Ma andiamo avanti ragazzi, non fermiamoci e parliamo del segreto che nasconde una delle nuove skin che abbiamo già visto giovedì scorso con l'uscita della patch 7.4 e di cui abbiamo già parlato in uno dei miei precedenti video. Questa ragazzi è la skin steampunk... No steampunk, è la skin robot che ha un nome che non mi ricordo. Tutti l'abbiamo vista ovviamente di fronte, ma io vi faccio vedere ragazzi una cosa incredibile. Questo è il dietro della skin senza il backpack e porco giù da porco, quella faccia lì, noi la conosciamo bene. È il Ragnarok. Perché c'è il Ragnarok dietro la skin del... dietro la skin del robot? Non lo sappiamo, non lo sa nessuno, ma è veramente una curiosità che potrebbe anche non passare inosservata. Forse il Ragnarok tornerà in qualche modo, sapete che lui è sempre lì che tribula nel far sui casotti. Non si sa, potrebbe semplicemente essere un omaggio al Ragnarok, ma potrebbe invece essere anche qualcosa di più. E per terminare il video di oggi volevo farvi vedere un'altra figata, il backpack, uno dei nuovi backpack che arriverà sempre nei prossimi giorni, non sappiamo quando, ma di certo prima della stagione 8, nasconde un piccolo spoilerino, chiamiamolo così. Guardate ragazzi la maschera che c'è attaccata, non la testa dell'orsetto, ma ovviamente la seconda maschera, quella che siamo abituati a vedere. Se la guardiamo attentamente ragazzi, è la maschera di Alla Deriva, ma non della versione maschile. È una maschera femminile di Alla Deriva, quindi potrebbe anche arrivare ben presto una nuova versione della skin numero 1, diciamo, della season 4? Season 4? 5? 5? Non me la ricordo, ho giocato troppe season, comunque è quella che ci ricordiamo tutti. In versione femminile. Beh ragazzi, io per oggi ve ne ho detto e va davvero di tutti i colori e vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 13 live. Ciao! 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 Grazie.